Pare che i concorrenti del grande fratello VIP abbiano ricevuto tra i 15.000 e i 40.000 euro di compenso totale a testa, a seconda ovviamente del grado di notorietà. Possiamo ancora ipotizzare che la più pagata sia Valeria Marini. Una sicurezza in tutto questo discorso comunque ce l'abbiamo, il monte premi del GF VIP. Il bottino che è il vincitore del reality si porterà a casa è di ben 100.000 euro, ma attenzione di questa cifra, la metà sarà devoluta in beneficenza. Stesso discorso per Ilari Blasi. Secondo voi quanto guadagna la conduttrice? Sappiamo che la moglie di Francesco Totti percepisce 25.000 euro per ogni puntata delle Iene e che Alessia Marcuzzi per il grande fratello e l'isola dei famosi ne guadagnava 90.000. Possiamo allora sopporre che la Blasi intaschi una cifra che sta in mezzo dal momento che per lei è la prima volta. Grazie.